Priolo Gargallo, stalker pregiudicato in requieto, tenta fuga alla stazione, tradotto in carcere. Un uomo in requieto è stato tradotto nel carcere di Cavadonna. L'uomo, un 56enne pregiudicato, si trovava già ai domiciliari per il reato di atti persecutori e maltrattamenti di famiglia nei confronti della ex moglie. La settimana scorsa il soggetto era stato tratto in arresto per evasione dai carabinieri che lo avevano trovato nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo Retusio mentre stava attendendo un treno. Nell'esame di tale episodio evasivo l'autorità giudiziaria ha disposto per il 56enne l'aggravamento della misura cautelare e domiciliare con quella in carcere per schiarirsi le idee.